Musica Abbiamo realizzato questa serata molto importante unendo la nascetta che è vitigno autotono piemontese del comune di Novello che sta godendo di un notevole successo anche da altri produttori del territorio piemontese, soprattutto delle langhe. E' unita al Murazzano che è un formaggio DOP della nostra regione, un formaggio antico che ha un carattere molto importante nato nel territorio di Murazzano e dei comuni limitrofi. Abbiamo cercato un abbinamento ideale tra questo vino bianco e questo formaggio. Il risultato è stato molto interessante, molto piacevole e soprattutto entusiasmante in quello che è il carattere sia del vino che del formaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.